ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video ASMR allora ho giochicchiato un po' con la macchina fotografica spero si veda un po' meglio perchè molti mi avete fatto notare che effettivamente le riprese vanno tipo a rilento e io purtroppo non me ne intendo quindi ci metterò un po' a capire come fare spero vada un pochino meglio ecco perchè io nel mio piccolo cerco di fare il possibile allora questo video vuole essere un video poi un po' rilassante anche per me e soprattutto malinconico perchè io quando faccio queste cose mi viene tipo non voglio crescere ho la sindrome di Peter Pan perennemente cioè voglio farvi vedere alcune foto della mia vita perchè mia nonna ogni anno aggiorna l'album fotografico e quindi ho praticamente foto in qualsiasi periodo della mia vita quindi vorrei farvi vedere queste foto e raccontarvi un po' perchè ero molto disagiata anche da bambina e soprattutto molto cretina anche da bambina prima vi faccio vedere velocemente perchè mi sembra giusto questo mini pacchettino che mi è arrivata da questa azienda che si chiama happiness boutique come al solito ci intengo a specificare nessuno mi ha pagato per fare questo video vi lascio comunque i link delle cose che ho scelto perchè ho scelto due paia di orecchini sapete che io con gli orecchini impazzisco e anche un codice sconto io non ci guadagno niente molto easy tra l'altro il zio bebbino dove ho messo le cose niente vi ho inviato anche una mini polaroid che è qui, eccola qua finta però che carina ho scritto dietro fuori e quindi è stato molto gentile da parte loro anche la ragazza con cui ho parlato è stata davvero molto molto gentile paziente perchè io sono la persona più indecisa del mondo e ho bisogno di tempo per fare queste scelte anche scegliato il paio di orecchini allora ho scelto questi che sono degli orecchini a cerchio piccoli leggeri io scelgo sempre orecchini leggeri tra l'altro sul sito c'è scritto anche quanto pesano quanto sono grandi cioè è molto c'è una descrizione bella come dire c'è una descrizione fatta molto molto bene di ogni singolo prodotto e ho preso questi che sono davvero stupendi super estivi io adoro i orecchini e poi come sapete adoro le crocce quindi ho preso questi orecchini a croce adesso ne tolgo uno e vi faccio vedere eccolo qua sono fatti così io ce li avevo dorati adesso ce li ho anche argentati così e siamo tutti contenti e soprattutto io sono contentissima mi piacciono molto ci ho messo una settimana ad arrivare al pacchetto infatti quando è arrivato non me lo aspettavo sono abituata ad aspettare e le aree geologiche quando faccio questi da Amazon estero o Aliexpress insomma questi di lì quindi questo è l'altro orecchino è bellissimo mi indosso da così e adesso vi indosso anche l'altro molto velocemente e questo qui è l'altro è davvero molto 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 carino e niente io direi di rimettere l'altro orecchino una carta a pollo non fanno più le carte a pollo di una volta allora loro sono non fanno più orecchino orecchino l'altro orecchino 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 va bene, io direi che posso smetterla iniziamo con le foto io non so se mi avrà allargata io in questo periodo dell'anno sembra la nostalgia come a capodanno vabbè a capodanno sto proprio malissimo perché ho la depressione da anno nuovo allora vabbè, anzi di tutto vi faccio vedere una foto da picchinissima ero una dei classici e una di pilatosi perché sì ecco qua l'unica volta che mi hanno visto dormire i miei genitori molto probabilmente poi 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 sì ero una palletta una palletta scusate le pesche ero la capoccia a pesca e niente da bimba a parte non dormire e far penare un po' i genitori da così piccola non hanno fatto nulla di che guardate che intellettuale in inglese oltretutto poi 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 vediamo un po' ok qua è una spiaggiata niente di che qua non hanno fatto nulla di che ecco qui c'è il mio primo esemplare c'è il primo esemplare di Lara ho preparato una festa e già potete notare quanto io sia contenta e quanto sia proprio la mia strada quella delle feste e non mi divertivo neanche da bambina sostanzialmente ecco qua la mia faccia dice tutto che gioia di vivere non è così anzi secondo me avevo anche pianto perché ho tutti gli occhi rossi va bene ma è molto interessante io il ciuccio l'ho tenuto tantissimo e quando è nato mio fratello non potevo credere al fatto che lui non volesse usarlo e io lo mettevo in bocca di forza e ve l'ho detto che è molto normale quando vi dico che io gioco i videogiochi da sempre e che ho una famiglia un po' nerd ecco qua qui c'è mio padre vabbè l'ho coperto questa sono io che sto giocando nella mia ingenuità ero in una gamer di quelle potenti bellissima nel 2002 ma qua ero già grandissima scarso allora questo video mi è venuto in mente di farlo perché un paio di persone su Instagram mi hanno chiesto di fare video sulle mie vacanze ed è anche un'ottima opportunità per ricordarmi da quali sono state le prime vacanze sono da fare un momento in locale perché ovviamente i grandi viaggi non c'è quelle cose più recenti che le ricordo bene però tipo il piaggio a Innsbruck che ho fatto a tre anni anche no perfetto allora qua avevo fatto due anni e a due anni da quel che mi ha raccontato mia madre è stato il periodo in cui ero più pesce in assoluto qua con che felicità guardo la mia Vienna è dal cioccolato e a due anni ho cominciato ad avere i capelli pochissimi ma ho cominciato ad avere questi benedetti capelli e ero molto una bambina frufru nel senso mi piacevano le conne che facevano la ruota e io gli dico così mamma voglio la conna che fa la ruota e anche se avevo quattro peli in testa dovevo avere i codini sempre anche i condormini perennemente guardate non si vedono neanche talmente sono indecenti ecco adesso mi suono io un po' di più poi io e mio padre suona la chitarra e io sui concerti quando ero piccola ero tipo quella che iniziava le danze mi mettevo a ballare cosa che adesso non riesco più a fare non ho ingenuità da bambino ebbene siamo arrivati ebbene siamo arrivati al mio primo costume allora questa storia è stupenda praticamente io guardavo tantissimo i classici Disney che ero bandita io guardavo sulle cassette e si ho fatto in tempo ad usare le cassette e anche le cassette quelle per ascoltare la musica avevo tutta tipo stavo su questo cosino io non so come si chiami con le cassette con le canzoni Disney ovviamente e la mia principessa Disney preferita era Bianca Neve e io ho rotto la cassetta di quel film e quindi mia mamma mi ha comprato questo ecco qua questo è il mio primo il mio primo cosplay che poi Bianca Neve a parte la bianchezza il pallito il pallito il pallore della mia pelle vabbè ero bionda da piccolina quasi e questo qua io non lo usavo solo a carnevale o alle feste in maschera io sempre tornavo a casa dall'asilo e me lo mettevo caldo freddo non me ne fregava niente io lo mettevo ecco qui già interpretavo alla grande e qui eccomi qua da qua che Bianca Neve perfetta questo è stato il mio primo costume che poi in realtà la prima volta che mi hanno vestita era stata all'asilo ma era stata parecchio tragica quella cosa perché mi ero messa a piangere non volevo assolutamente fare le foto quando non voglio fare le cose piangevo e scappavo una volta sono scappata anche dal corso di moto c'era una signora che voleva farmi fare la prova io avevo 5 anni per cambiarmi di corsia da sola ero presa malissimo non volevo farlo perché questa qui era super antipatica e quindi ho preso sono uscita dalla vasca e sono scappata fino all'ingresso mia madre ha dovuto rincorrermi ecco la rapassione gatti è le e si può già vedere qua questo gatto qua questo micione enorme è matisse io lo molestavo tantissimo gli stavo appiccicata era un santo quel gatto lì l'hai vissuto 20 anni bellissimo ecco quando vi dicevo il giuccio io ho 3 anni ancora ero lì col giuccio faccio qualsiasi cosa col giuccio senza il giuccio non dormivo e dormivo già poco in questa cosa di commentare le foto la faccio spesso con la mia amica e moriamo dalle risate perché ci sono delle foto qui veramente sono io cioè in questa foto ho 3 anni ma sono uguale adesso io non sono cambiata di a parte il naso che è cresciuto purtroppo non sono cambiata di un centimetro parlando sempre di cose da cosplayer io ero un po' cretina dentro infatti mi mettevo le cannucce in testa qua i capelli mi erano già cresciuti guardate come erano lunghi in un anno con le miglioramenti e poi ok qui siamo a Ninsbruck io avevo rotto le palle tantissimo cioè in generale sono sempre stata una rompiscatole cioè i miei genitori oh guarda qui hai rotto le scatole per questo quando guardiamo il fatto qui hai rotto le scatole per quest'altro qui hai rotto le scatole vabbè qui avevo rotto le scatole perché volevo fare un giro sul pony vabbè penso sia abbastanza normale però tutta la vacanza voglio fare il giro sul pony voglio fare il giro sul pony voglio fare il giro sul pony alla fine ho vinto perché sono decoccio bene ecco non so se lo sapete ma io ho fatto per tantissimi anni il teatro adesso sto lavorando anche per l'alternanza scuola-lavoro-teatro per tre settimane e la prima recita però che feci all'asilo alla materna andò malissimo perché sostanzialmente mio padre si occupa anche di strumenti per la regia quindi il suono le casse i microfoni eccetera quindi quando in auditorium dovevamo fare questa recita c'erano tutti i genitori tra gli spettatori mentre mio padre e mia madre erano nella cabina di regia in alto dietro un vetro io non li vedevo e quando sono salita sul palco sono scoppiata in lacrime di nuovo facevo l'elfo adesso vi faccio vedere non vi si vede bene ma in teoria ci sono vabbè qui eravamo tanti tanti elfi rossi per la recita di natale e e quindi la maestra ero talmente impanicata mi ha preso e mi ha portato via e mi ha portato su in sala regia con i miei genitori è iniziato molto bene il mio percorso con il teatro ecco qua mia nonna mi ha vestita da madonna con un asciugamano in testa e una camicia da notte tra l'altro mia nonna adesso è attualmente la mia spacciatrice di fiducia per le cose che mi servono per il cosplay quindi già allora si dava un grande affare questo è stato un Natale ero entusiastissima perché avevo ricevuto la macchina per fare le uova di cioccolato non lo so era una cosa che volevo da un sacco di tempo già in realtà quando è che cominciano a novembre sulle musica i libri mi ricominciano a girare le pubblicità dei giocattoli e quindi da quando l'ho vista ero follemente innamorata poi è nato il fratellino è nato il fratellino adesso vi faccio vedere in realtà non si vede una ciova la mia non mio fratello vabbè queste sono io da mia sorella ho la faccia da chitte murbe eccomi qua dico perché ho sto cosa in mano stavo così bene da figlia unica vabbè infatti i compiani di mio fratello per me era sempre una tragedia perché lui fa gli anni prima di me e vederlo festeggiare prima rosa i cavo dietro proprio non chiedetemi perché però qui Lara che ha sempre ragione poi qui Lara era con un abbigliamento natalizio assolutamente come dire elegante ero in camicia da notte con le pappucce di non so guardate queste vanno di nuovo adesso mettersi queste cose io ero già avanti io ero già avanti poi io ho fatto tantissimi sport nella mia vita sono andati tutti male uno di questi è stato danza ho iniziato con la danza classica ok io ho fatto un saggio no e adesso vi faccio vedere vabbè qua non si vede niente però questa è la mia faccia sul palco sembra la faccia da Kate e la morte cioè ero contentissima per carità io mi divertivo però c'era questa maestra che era molto pignola io ero piccola insomma andavo lì anche un po' per divertirmi però poi mia mamma alla fine mi ha regalato i fiori quindi sono stata la prima felice poi penso da quest'estate sì 2006 avevo 5 anni ho cominciato a frequentare la montagna da lì non ho più smesso ho sempre nello stesso hotel tutti gli anni e qui sono sul su una montagna ho fatto una passeggiata e proprio qui c'è la montagna della c'è praticamente un punto di una passeggiata non so su per famiglia però mio padre è patito quindi probabilmente mi ha anche fatto scarpinare tanto nonostante fossi piccola a un certo punto ci sono tante rocce messe una sopra l'altra ovviamente messe dalle persone che passavano lì e mi raccontava io ci ho credito per anni a questa cosa che praticamente c'era un principe che andava lì a mettere queste pietre e tra le pietre lasciava dei bigliettini e lui prima mio padre mi metteva questi bigliettini mi faceva trovare questi bigliettini che servivano a indicare il percorso per continuare la storia la fiaba eccetera e io ci ho creduto per tantissimo tempo a un certo punto tipo un paio di anni dopo sono arrivata agli stessi si ha detto papà senti chi se ne frega del principe continuiamo da soli con le acqua chi di voi ha passato alla fase wings allora praticamente io ero patita delle wings io ho passato alla fase wings la fase venterna poi a un certo punto ho guardato anche power rangers con mio fratello e anche spider man i cormiti non tanto mio fratello un po' li guardava ma io no e poi tutte le serie tv di disney channel ovviamente tipo Anna Montana buona fortuna Charlie che è già quelle più recente sa che godi la grande terza sa che godi la botte di comando ha fatto sta che le wings erano il mio grande amore io ero stella ognuno aveva una wings io ero stella va bene poi quelle sfigate almeno nella prima stagione erano tecna e musa fatto sta che comunque mio padre mi aveva promesso suonatomire ad entrare al museo di storia naturale io ero contente cioè io al museo di storia naturale lo sapevo a memoria adesso da anni che non ci vado e sostanzialmente mi ha detto guarda che è chiuso io c'ero rimasta malissimo io volevo vedere sto cacchio di museo di storia naturale che mi ha portato a vedere il musical il musical delle wings e altro fun fact sulle wings io l'ho fatto imparare ho fatto imparare l'amore a tutti i nomi delle wings a mio fratello però dato che lui da piccolo non sapeva dire la parola polipo mi sono inventata che una wings fosse polipo perché mi divertiva a sentirlo dire poppilo sono sono molto caldita allora altri natali contenti sempre molto entusiasta natale adesso vi racconto perché quasi siamo al 2006 io due anni dopo ho scoperto la verità su poppo natale e come l'ho scoperta facendo un interrogatorio a mia madre praticamente la sera della vigilia io io avevo il dubbio sull'esistenza o meno di poppo natale e allora la sera l'ho presa in disparte l'ho portata in cucina al buio e faccio mamma ma poppo natale esiste è stata lì minimo un quarto ad ora a parlare di poppo natale l'ho fatto letteralmente in interrogatorio ok poi passiamo a altri costumi bellissimi tutto qui sono eccomi eccomi qua ma allora guarda qui precipissina tra l'altro mia madre non me li voleva comprare tutti gli anni nuovi costumi quindi spesso li ripetevo però ok poi c'è stato il diploma delle materne una del poche state al mare in cui mi sono divertita e poi siamo stati a Parigi è stato il mio primo viaggio in aereo e anche qua c'è una storia bellissima che vi voglio raccontare allora praticamente a Parigi mio padre c'è sta mania di farmi gli scherzi e di farmi scimare male e apparentemente poi sono delle belle sorprese e da lì io non apprezzo molto le sorprese praticamente quando eravamo a Parigi una mattina i miei genitori hanno svegliato me mio fratello prestissimo mio fratello aveva due anni tra l'altro ero un pacciocco guardatelo qua che pacciocco era un patatino era bellissimo mi ha dato da piccolino adesso è diventato più alto di me e praticamente ci ho fatto svegliare presto e ho detto dobbiamo prendere treni e treni ho detto io ero arrabbiatissima non c'avevo proprio voglia e alla fine dopo aver tirato un giungo dico io cioè un capricci di quelli pesanti potenti come direbbe Barbascura ti hanno portato a Disneyland lì ho tirato un altro ciocco pesante potente perché volevo assolutamente il vestito di bella quella della bella e la bestia quello dorato perché io ero convinta nella mia testa che non fosse possibile stare a Disneyland senza costume cioè tu dovevi andare tipo nelle fiere del fumetto che poi non è vero che non puoi andarci senza cosplay però ero convinta proprio 100% che non si potesse dare alla fine non me l'hanno comprata però una cosa orribile che ha fatto mio padre che io me lo sono girata proprio attorno al dito tante 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 volte è stato praticamente mio padre non c'era voglia di farsi le code più volte quindi che cosa mi ha detto tra l'altro questa cosa ho scoperto che era una bugia tipo quando sono andata a Tokyo quindi tre anni fa perché sono andata a vedere il Disneyland di Tokyo su internet ho fatto questa scoperta comunque cosa mi aveva detto che io potevo fare un'attrazione una volta sola un giro per attrazione e quello che mi facevo fare come una cretina mi dava il biglietto e mi facevo passare davanti alle telecamere così col biglietto per obliterarlo questa cosa magica di passare davanti alle telecamere ho fatto sta che io ci ho creduto proprio non ce l'ho neanche pensato una volta no niente ci ho creduto proprio ci sono cascata come una vera conta e ho scoperto e ho scoperto che in realtà tutta questa era una scenata tre anni fa sono un genio e mio padre è davvero cattivo qua un uomo che pulisco le alici questi erano i giochi che mi faceva fare mia notte insieme alle cannucce in testa e niente eccomi qua al famoso museo di storia naturale con mio fratello che passeggia malegramente tra le ossa di vasato e poi poi praticamente ci sono stati un paio d'anni in cui sono andata al mare con una mia amica e dopo un po' mia madre lavorava ci raggiungeva e cadiva sempre quel periodo quando c'era il suo compleanno e con ogni anno io e mia nonna e la mia amica organizzavamo uno spettacolo per le due mamme che facevano quindi la mia e la sua che facevano i compleanni molto vicini e uno di questi è stato l'esploratore le tre scimmiette io ero una delle tre scimmiette eccola qua poi c'era la mia amica il mio fratello e il mio nonno era l'esploratore io ho ancora il video di questa cosa e giuro muoio da ridere era una cosa stupenda io mi divertivo un sacco tra l'altro qua avevo già fatto il mio primo corso di teatro e ero contentissima ok la prima volta a Gardaland io le mie ossessioni Gardaland è un'altra praticamente io dovete sapere che ero fissata con gli egiziani io mi ero imparata uno degli alfabeti con gli ideogrammi a memoria sapevo scrivere un sacco di cose in egiziano non so più niente so scrivere il mio nome quello si però il mio primo costume fatto in casa l'ho fatto proprio perché adoravo gli egiziani a carnevale volevo travestirmi da che ho padre io a 10 anni che già i miei compagni cominciavano a tirarsi le uova quelle cose che a me non sono mai piaciute a me a carnevale piaceva perché potevo travestirmi ho fatto le mie queste sono immagini non adatte a un pubblico da cuore debole eccomi qua il vestito era stato fatto tutto made con mia nonna la barrucca dei cinesi si vede perché è lucidissima il trucco by mia madre che si era impegnata anche poverina però insomma io ce l'ho ancora questo in casa ce l'ho ancora questa costruzione poi io qua salto nella storia egiziani più cowboy che è mio fratello guardate come era curato questo vestito avevo fatto queste cose qua con una tenda mia nonna non aveva fatto gli scenderi da faraone stupendo e vabbè qui stavo crescendo di carnevale ne ho fatto solo uno a 11 anni perché poi dopo mi sono vergognata ero idiota perché poi guardate come sono finita lo sapete bene e avevo fatto la piradessa con mio fratello sempre da cowboy e è stato correntissima mia madre mi aveva dato gli orecchini a cerchio mi impazzivo già allora e niente poi danza ho fatto altri corsi eccetera il vero sport in cui sono sempre riuscita a fare le cose molto bene erano arrampicata in montagna in parchi avventura io davvero sono bellina e la cavo su usare bene le attrezzature ma ormai lo faccio da anni e mi diverto in uno dei pochissimi casi bene con questo video è tutto spero che vi abbiate conosciuto un pochino di più che abbiate sorriso perché effettivamente ci vediamo in un prossimo video ciao